Direttore, è finita 1-1 qui al Menti, 2-1 all'andata, la primavera della Juve Stabia e in finale, play-off, campionato primavera 4. È stato un ottimo risultato, anche perché i ragazzi hanno fatto veramente dei grossi sacrifici, perché molti di questi ragazzi comunque per raggiungere il campo di allenamento fanno chilometri. Era proprio la giusta ricompensa di quello che è stato fatto durante l'anno. Abbiamo fatto dei sacrifici e quindi alla fine era giusto che venivano ripagati. I ragazzi ce l'hanno messa tutti, si sa che in queste partite sono finali, sono importanti, dove anche loro si giocano il campionato, gli avversari, però la Juve Stabia è stata cinica, fuori casa ed è riuscita a mantenere un risultato importante anche in casa. Peccato, la ciliegina sulla tosta poteva essere quel rigore sbagliato alla fine, però va bene lo stesso, va bene così. Ma sicuramente, il ragazzo ha fatto una grandissima partita oggi, poi magari è arrivato stanco, era sicuro di poter fare gollo, però alla fine è stato bravo anche il portiere a parare quel rigore. Però diciamo che era giusto perché la partita era quasi finita. bisogna pensare già alla prossima perché la prossima ci giochiamo il tutto per tutto. È una finale, speriamo di vincerla come sperano di vincere dagli altri. E chi sarà più bravo e più fortunato ci riesce. Il settore giovanile della Juve Stabia ha al timone due grandi professionisti, uno sei ovviamente tu, direttore Roberto Amondio, l'altro ovviamente responsabile Sabi Mainolfi. La garanzia per questo settore giovanile, io l'ho sempre detto, i risultati arrivano nonostante le mille difficoltà. Ma sicuramente i risultati sono arrivati, però penso che il prossimo anno bisogna sederci bene con la società, bisogna capire cosa si voglia fare perché facciamo tantissimi sacrifici e anche la società deve capire se veramente crede nel settore giovanile ma deve crederci con i fatti, non solo con le promesse, anche perché abbiamo una difficoltà anche nei campi dove allenarci, facciamo fatica a trovare campi reperibili. E quindi penso che magari qualche giocatore in meno di prima squadra, però investire qualcosa in più sul settore giovanile perché alla fine i risultati stanno arrivando. Qualche giocatore è andato in prima squadra, quindi parlano i fatti, la società deve crederci un po' di più nel settore giovanile. Si gioca la finale settimana prossima, ecco come la preparerà la squadra, ma come la farà preparare uno sanguigno come te? Ma io ho un allenatore che è ancora più sanguigno di me, quindi alla fine bisogna stare calmi, non trasmettere ansia ai ragazzi, molti di questi qua sarà la prima volta che vanno a fare una partita importante, non devono nemmeno accorgersene che stanno giocando una finale, devono solo dare il massimo, non incepparsi come magari qualcuno oggi ha fatto fatica, ma più mentalmente che fisicamente. Bisogna stare tranquilli, lavorare bene in questa settimana e ce l'andiamo a giocare a Cesena tranquillamente. Grazie Roberto.